Il fuoco In tanti anni ormai è diventato un elemento amico per me. Per me è molto gratificante quando un cliente apprezza quello che io faccio. Vuol dire che capisce tutto il lavoro che c'è dietro. Il bello è vedere anche delle forme che ci sono in natura e cercare di riprodurle con il vetro. Una delle cose più importanti è la fantasia. Il bello. Il bello. Il bello. Un'altra delle cose più importanti. Il bello. Il bello. Il bello. Un'altra delle cose più importanti.